Lievito madre, tenuto libero. Io sono Andrea Di Giglio, chef e pasticciere professionista del 2004. Attraverso i miei videocorsi formativi aiuto le persone in pasticceria a diventare molto più abili come un pasticciere professionista. Infatti ho realizzato videocorsi per tutte le persone anche che partono da zero, quindi se sei un appassionato, un aspirante pasticciere, un pasticciere o un professionista che vuole migliorare le proprie competenze in pasticceria. Qui sotto ti lascio il link in descrizione per vedere i miei corsi. Se hai qualche dubbio, domanda o perplessità c'è anche il tasto per parlare su WhatsApp con la mia assistente. Puoi fare qualsiasi tipo di domanda alla mia assistente per capire quali sono i percorsi più adatti a te e per capire come puoi migliorare in pasticceria. Al momento abbiamo pasticceria di base per chi parte dalle basi, pasticceria lievitata, pasticceria da forno, pasticceria classica e moderna, quindi vedremo piccoli e grandi lievitati, torte classiche, torte moderne, biscotteria, cake, torte da forno e crostate. Quindi tutto per renderti capace come un pasticciere professionista. In questo video vediamo nello specifico il lievito madre tenuto libero. Abbiamo visto l'introduzione dei lieviti, abbiamo visto il lievito madre in acqua, cerchiamo di capire un pochettino il lievito madre tenuto libero. Beh, il lievito madre tenuto libero non è altro che la gestione tenuta in un contenitore, quindi che può essere una caraffa, l'importante è che sia stretta e alta, può essere una caraffa, può essere un vasetto di vetro per chi usa in casa, può essere un contenitore comunque che sia stretto e alto perché deve fare forza. Questo vale in tutti i lieviti, più stretto e più alto è più fa forza. Il lievito madre è libero, sappiamo che l'abbiamo già creato, quindi abbiamo fatto la nostra miscela di acqua e farina, l'abbiamo fatta maturare per 30 giorni con rinfreschi quotidiani. Una volta abbiamo il nostro lievito lo mettiamo all'interno del contenitore. Questo lievito ovviamente va gestito in una certa maniera, va gestito sicuramente in una maniera più attenta del lievito madre in acqua, perché, vai a vedere il video, lievito madre in acqua, siccome è in acqua, quindi l'acidità in eccesso, soprattutto la lattica, viene dispersa nell'acqua, qui invece rimane all'interno del contenitore. Però è anche diverso di quello gestito nel sacco, perché la gestione libera è diversa da quello del sacco, perché il sacco comunque viene chiuso all'interno di un contenitore con un sacco di juta, quindi ha un processo anaerobico senza ossigeno, invece tenuto libero c'è la presenza di ossigeno, quindi qua le acidità cambiano leggermente. È vero anche, però, che è differente da quello del lievito madre tenuto in acqua, perché quello madre tenuto in acqua l'acidità lattica viene dispersa in acqua, qui rimane dentro, ma siccome c'è l'ossigeno, diciamo viene sviluppata anche un po' più la parte acetica. Al contrario del lievito madre legato, che si sviluppa molto più parte lattica, perché rimane all'interno. Infatti, nel lievito madre legato, e anche in questo, bisogna avere un po' più di occhio, un po' più attenzione, un po' più essere militari con i rinfreschi, un po' più precisi, perché se noi facciamo rinfreschi a ore un po' non precise, giorno o una mattina non abbiamo voglia, oppure ci dimentichiamo, questi tipi di lieviti acidificano molto di più. Quindi il lievito madre tenuto libero è comodo, perché una volta fatto l'impasto, si mette in un contenitore. Generalmente io consiglio per il riposo notturno, nelle 16-18 ore serali, in una cantinetta tipo vini, che si comprano anche su Amazon, oppure si può mettere anche in frigorifero, se prima va fatto sviluppare un po' nel contenitore, un 2, 3, 4, 5 ore nel contenitore, poi si può mettere anche nel frigo. Ma in assoluto è meglio avere una cantina, o una cantinetta di tipo vini. La mattina si ritrova quindi il nostro lievito sviluppato, c'è una crosta, ecco la caratteristica di questo lievito che fa poco scarto, c'è giusto una crosta superficiale, si leva la crosta, si prende il cuore, e si procede con i rinfreschi. Un lievito madre tenuto libero, generalmente si rinfresca di media, tra un 45 e un 50% di idratazione, troverete maestri che vi insegnano al 50, al 47, al 45, in linea generale dipende anche dalla forza della farina, dipende da come sta il lievito, ma in linea generale tra un 45 e un 50% di idratazione, un lievito madre libero, e qui la farina rispetto al lievito madre tenuto in acqua, che può essere 1 a 1 o 1 a 1 e mezzo, o massimo 1 a 2 se è un po' acido, qui deve essere 1 a 2 di partenza al minimo, anche 1 a 3 se è molto acido, soprattutto nel lievito milanese 1 a 3 sarebbe meglio, però qui 1 a 2, cioè cosa vuol dire? la mattina si prende il lievito, tendenzialmente è un po' più acido di un lievito madre tenuto in acqua, si fa un rinfresco 1 di lievito, 2 di farina, con un 45 e un 50% di idratazione, si mette in caldo a sviluppare, in 3-4 ore a dai 26 e 30 gradi sviluppa, e poi si può utilizzare per i nostri impassi, quindi si prende il cuore e si utilizza, di giorno si fa lavorare e di sera deve riposare, la quantità per un lievito madre, generalmente sia che sia nel sacco, che sia libero, che sia in acqua, se ne usa da 250-300 grammi, chilo farina per far sviluppare gli impasti, è più che sufficiente. Questo tipo di lievito è comodo, perché c'è poco scarto, perché si mette in un contenitore molto semplice, diciamo aumentando la farina nel primo rinfresco, andiamo a basificarlo, e quindi andiamo anche a tamponare l'eccesso di acidità. È un lievito comodo, che si sta usando molto adesso, perché il primo lievito in assoluto che hanno usato per anni i lievitisti, da quello che ho imparato anch'io, era il lievito legato. Quindi si mette all'interno un sacco di juta, si lega, lievito legato, è un lievito proprio del lievitista. Poi ha iniziato un po' tutti gli altri, adesso soprattutto va di moda il licoli, ma lo vedremo perché è una cosa a parte. Lievito libero, quindi messo in un contenitore, è un lievito più comodo, perché ovviamente non bisogna prendere il torcione, o il sacco di juta, non bisogna mettere la pellicola, c'è molto meno scarto, perché nel lievito legato c'è più scarto. Però è un lievito diverso. Ovviamente qui l'acidità la produce sicuramente di più, che è un lievito piemontese, ma meno rispetto a un lievito nel sacco. Quindi è leggermente più facile da gestire, che è un lievito legato. Però comunque è un lievito che bisogna prestare attenzione, soprattutto il primo in fresco la mattina, se arriva un po' acido, bisogna basificarlo con la farina. Quindi il percento di acqua, l'abbiamo visto, è da un 45-50%. La farina è una farina di forza. Le temperature, caldo dai 24-26 gradi e 30, il range ottimale per far sviluppare, affinché i lieviti lavorano. Sopra i 30-32, i lieviti vanno in sofferenza, rallentiamo la fermentazione. Sotto i 24, rallentiamo le fermentazioni, perché vanno in sofferenza, perché non riescono a lavorare bene, perché i lieviti lavorano un range dai 24-30 gradi. Le percentuali di acqua le abbiamo viste, le temperature le abbiamo viste, il tipo di farina le abbiamo viste, la comodità ovviamente sta in un contenitore, quindi è comodo. E anche qui, diciamo, se è sempre fatto tre rinfreschi e si parte con l'impasto del panettone, ad esempio serale, o si può utilizzare per levitazione mista, per panificazione, però vi dico che da ultime esperienze, perché poi nella vita bisogna andare avanti, bisogna sperimentare, anche semplicemente un rinfresco e si può partire con un piccolo levitato, magari per un grande levitato, si possono fare due rinfreschi e si parte direttamente con un grande levitato, o se si vuole utilizzare la tradizione si fanno tre rinfreschi distanziate tre-quattro ore uno dall'altro e la sera si parte con l'impasto serale. Lina di massima, si potrebbe anche fare la mattina un rinfresco uno a due o uno a tre, si fa sviluppare due volte e mezzo, c'è chi dice raddoppio, c'è chi dice due volte e mezzo, due volte e sette, fino al triplico. Io vi dico, li ho provati tutti, non c'è il metodo giusto, ma c'è il metodo che più tu ti trovi meglio, quindi potresti farlo portare al raddoppio, si chiama lievito giovane. Due volte e mezzo, due volte e sei, due volte e sette, che è la, diciamo, sarebbe l'optimum, soprattutto per le nuove conoscenze che abbiamo sul lievito madre, o si può portare al triplico, come è sempre stato fatto per i lievitisti, e si può utilizzare al triplico. Come spiego nel mio corso Pasticcia Levitata, quando un insegnante ti dice che c'è solo un metodo per fare una cosa, in verità non ti sta insegnando nulla. Quindi, ci sono vari metodi, si può portare al raddoppio, si può portare due volte e mezza, si può portare al triplico, dipende dal maestro che ha avuto, dipende dall'acidità che vuoi, più lo fai sviluppare, più avrà acidità, meno lo fai sviluppare, più sarà giovane, più avrà dolcezza il prodotto. La stessa cosa va nelle ellicoli, la stessa cosa va negli altri lieviti. Più sviluppa nella caraffa, più produce acidità e molecole, ovviamente all'interno. Meno lo si fa sviluppare, meno sarà forte. Però, in linea generale, due volte e mezzo, massimo al triplico, è un buon punto per prendere il lievito madre. Anche perché, spiegato nel percorso Pasticcia Levitata, le fasi del lievito bisogna conoscere, bisogna capire cosa sta succedendo, perché ci sono delle fasi di partenza, fase stazionare, fase di decrescenza, quindi ci sono tutte le fasi del lievito e bisogna capire cosa sta succedendo per poter poi essere padrone della materia e non copiare semplicemente la ricetta. Ad ogni modo, questo video era sul lievito libero, quindi di facile gestione, poco scarto, bisogna tamponarlo un po' più con la farina che è un lievito madre, in acqua, le temperature sono importanti, il riposo notturno è importante, è importante lo sviluppo a quando bisogna prenderlo questo lievito, insomma, un mondo affascinante che puoi approfondire con il mio percorso Pasticcia Levitata, puoi vedere tantissime video lezioni. Se ti interessano i miei percorsi, puoi parlare anche col mio operatore per capire un attimino qual è il percorso più adatto a te. Ad ogni modo, questo video è terminato, ci vediamo nei prossimi video dove ti spiegherò, ad esempio, il lievito Licoli e il lievito tenuto nel sacco o metodo milanese. Grazie.